Lo scenario che si è aperto con la pandemia, se ci offre anche l'opportunità di ripensare il ruolo che il pubblico ha nel salvaguardare la salute dei cittadini. Quindi qual è l'impatto che questo ha avuto con il sistema sanitario nazionale in Italia, penso anche dall'altra parte, e quali sono le soluzioni? Questo può essere un elemento di ripensamento generale, come è stato prima volta detto, lo chiedo a Rosa, a Rinaldi, per capire anche il suo pensiero su questa cosa. È davvero stata una storia gloriosa quella del nostro paese, che poteva essere appunto da insegnamento e da guida anche per altri paesi. E non è ideologico dire che la 833, che è stata conquistata anche grazie alla lotta delle lavoratrici, dei lavoratori, che volevano superare il sistema delle mutue, in una stagione in cui le riforme, da quella penso alla 180, alla riforma del diritto di famiglia, insomma erano tutte riforme in avanti. E in quella piega si è inserita la 833, che metteva al centro una cosa che si chiamava appunto innanzitutto la prevenzione, prevenzione e poi diagnosi, diagnosi e poi cura. Quindi c'era una scala di valori e di intervento da parte del pubblico piuttosto precisa, piuttosto significativa, che parlava di salute psicofisica delle persone, quindi di benessere psicofisico delle persone, quindi la persona nella sua intierezza. Sceglieva il territorio come diffusione di rete e di servizi e non gli ospedali, nel senso che gli ospedali erano i luoghi di cura a cui si accedeva quando la prevenzione non era più sufficiente, quando i servizi sul territorio non rispondevano più all'esigenza del cittadino. Tutto questo è stato superato e cancellato. C'era un altro elemento fondamentale, che era la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini alla organizzazione, alla programmazione dei servizi. Allora, tutto questo è stato cancellato e che cosa è accaduto? Intanto è accaduto che appunto da un servizio sanitario nazionale che dava risposta all'articolo 32 della Costituzione che prevede l'universalità del diritto alla salute, quindi la 833 era lo strumento attraverso il quale si rispondeva ad un diritto generale delle cittadine e dei cittadini in questo paese e istituiva appunto al posto delle mutue o al posto di quelle che erano mutue e rispondevano in ragione del fatto che tu fossi o non fossi lavoratrice o lavoratore, istituiva il servizio sanitario nazionale, quindi rendendo il diritto uguale lungo tutto il paese. Oggi quello che invece misuriamo è stata la vera e propria cancellazione di questo sistema. Ha detto Vittorio Agnoletto in una iniziativa che si è fatta da poco, si è passati dalle USL, unità socio-sanitarie locali, appunto la rete di servizi sui territori, alle ASLA e diceva lui non è una questione solo di vocali perché la A al posto della U ci parla di aziende sanitarie locali, aziende che vengono istituite in un periodo, ci ricorderemo, quando uno come Bettino Craxi fonda, diciamo conia il termine azienda, la famosa azienda Italia e quindi il sistema comincia ad uniformarsi su un'idea appunto dei profitti, dietro una falsa questione che era l'efficienza. Oggi noi misuriamo di quali disastri si siano venuti a creare e vediamo che il danno che viene prodotto è davvero enorme se oggi appunto siamo costretti a restare a casa. Allora noi diciamo è tutto da rifare. Io credo che vada, sarà emanato, non so se è già accaduto in queste ore, non ho fatto in tempo a fare la verifica, il decreto a favore per esempio delle lavoratrici e dei lavoratori perché vengano bloccati i licenziamenti, perché i lavoratrici e i lavoratori stanno vivendo un momento davvero pesante, ma tutte le cittadine e tutti i cittadini. Io penso che sarà importante leggere tra le pieghe dei decreti, perché purtroppo temo che la lezione di un ritorno deciso all'intervento pubblico e alla ripresa in mano appunto di un servizio sanitario nazionale sia ancora di là da venire. Se come sta accadendo per esempio a Milano con l'attivazione di una raccolta fondi a favore del San Raffaele, ospedale privato di pregio, non ho nulla da ridire, ma che non viene messo al servizio direttamente del pubblico, oppure a Roma dove si poteva con qualche investimento riattivare i padiglioni del Forlanini, un ospedale importante, storico, che ha una tradizione alle spalle, che costituirebbe insieme al San Camillo e allo Spallanzani un vero e proprio polo per la salute, invece di investire in quella direzione si investe su una clinica che stava andando peraltro all'asta come la Columbus legata all'Istituto Gemelli e insomma diciamo così mi pare che la via che si sta prendendo è ancora quella appunto di guardare al privato. Si va di bene, io lo dico non perché penso che il privato non debba fare la sua parte, io penso che come in Spagna il privato va costretto a fare la sua parte, parlo di un privato convenzionato che ha preso fior fior di quattrini dal sistema pubblico. Allora ecco io penso che il decreto che sta per uscire va guardato bene e va letto appunto all'interno di come questo l'attenzione nostra sia quella appunto di immaginarci un ritorno al passato perché quel passato può rappresentare un futuro di sviluppo sul piano sociale e sul piano della salute mentre tutto ciò che è stato fatto in questo periodo francamente non funziona. Non è sufficiente dire che a Milano la sanità, sì c'è forse anche una buona sanità ma sempre per dirla con Agnoletto ed altri che ho sentito in questo periodo, a Milano probabilmente per la cura sono messi meglio perché hanno avuto anche più finanziamenti di altre parti del paese. Se hai bisogno di un chirurgo trovi un ottimo chirurgo, un ospedale che ti assiste ma la prevenzione è sparita appunto dal territorio. Ora io penso che facciamo bene ad aguzzare l'attenzione perché oggi questa crisi attraversa tutto il paese ma è esplosa soprattutto al nord. Noi dobbiamo proprio temere, si è visto ieri in alcuni servizi in televisione, che cosa potrà rappresentare questa crisi sociale e della salute nel nostro paese quando questa si affacciasse allo stesso modo nel nostro mezzogiorno dove le strutture diciamo non sono pronte. Grazie. Ringrazio Rosa.